Depennato il sindaco Matteo Ricci dalle possibilità verso le elezioni al Parlamento, il Partito Democratico sfoglia la rosa dei nomi candidabili verso la presentazione delle liste elettorali con termine del 22 agosto, con vista sulla chiamata alle urne del 25 settembre. Quella di ieri è stata una serata di consultazione per i vertici PD provinciali. Su Pesaro, fra le possibilità che emergono, c'è quella quasi scontata di Alessia Morani, già reduce da due mandati parlamentari, che sarà però accompagnata da nomi che risulterebbero novità verso Roma. Nomi come quelli dei consiglieri regionali Andrea Biancani e Micaela Vitri, quello del vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini o, per la rappresentanza dell'entroterra, quello del sindaco di Cantiano Alessandro Piccini o dell'ex sindaca di San Costanzo Margherita Pedinelli. Tanti nomi, pochi spazi e ancora poche certezze. Devo dire che c'è stata la direzione provinciale proprio ieri, sia a Pesaro che a Dancona. Nelle prossime settimane, nei prossimi giorni ci saranno altri incontri a livello regionale, quindi in tutte le province, però come dire, gli spazi sono, bisogna essere obiettivi, gli spazi sono veramente, veramente pochi. In questa fase è stata fatta, come dire, una proposta dove le varie federazioni indicano una serie di nomi, cioè di persone che potrebbero in qualche modo avere quelle caratteristiche necessarie per poter correre. Voglio chiarirlo bene, i nomi che sono stati fatti non sono i nomi che saranno candidati alle elezioni, cioè ancora ad oggi questi nomi vanno definiti. Ovviamente è stata fatta una rosa di nomi, all'interno di questa rosa di nomi c'è anche il mio, ma dobbiamo essere tutti consapevoli, ovviamente che tutti dovremmo correre comunque per fare la campagna elettorale, ma le persone, gli amministratori, le persone che saranno realmente iscritti nelle liste elettorali saranno molto, molto minori rispetto a quelli che sono i nomi che sono usciti. Tra i nomi spendibili ci sono poi quelli del segretario provinciale Rosetta Fulvi o del presidente di Aspes, Luca Pieri. Ci sono stati degli organismi dirigenti che giustamente devono fare la composizione delle liste, tra i tanti nomi che sono stati fatti c'è anche il mio. Come sempre nella mia storia politica di militante del PD da sempre mi metto a disposizione, se ce ne sarà l'esigenza io sono qui, altrimenti corriamo come sempre per gli altri, lavoriamo affinché la mia parte politica possa prevalere sugli altri.